Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo ad affrontare un argomento del quale non sono propriamente uno scienziato, però nel mio piccolo voglio darvi quelle che sono delle linee guida per quanto riguarda il funzionamento del mercato di food. Cercherò di non entrare in quello che è l'argomento compravendita, del quale, come vi dicevo, spesso e volentieri capisco ben poco anche io, però credo di aver acquisito col tempo delle conoscenze che possono permettervi di affrontare soprattutto questo periodo di Tots in maniera tranquilla senza andare a panicare. Una grossissima premessa che voglio fare è quella relativa al fatto che il mercato di food funziona esattamente come il mercato della vita di tutti i giorni. Il mercato della vita di tutti i giorni e di conseguenza anche quello di food reagiscono a quello che è il comportamento dei suoi attori, ovvero i venditori e i compratori. Questo cosa significa? Significa che quando i venditori decidono di andare a mettere più oggetti rispetto a quella che è la domanda fatta dai compratori, è chiaro che il valore della merce messa in vendita si svaluta e quindi potete trovare, nel caso di food, delle carte a prezzi più bassi. Viceversa, quando invece la domanda dei compratori è più alta rispetto a quella che è la disponibilità da parte dei venditori di mettere sul mercato gli oggetti, il prezzo della merce aumenta. Caso stupido. Esempio, Ronaldo Moments costa 15 milioni perché non c'è mai sul mercato e quella volta che esce sul mercato ce n'è uno solo e c'è sempre quel compratore che lo aspettava con ansia da settimane che se lo porta a casa senza pensarci al prezzo massimo perché questo fa sì anche che vada ad aumentare il desiderio da parte del compratore di avere quel determinato oggetto e per questo motivo sarà più disposto ad andare a comprarlo anche al prezzo massimo. Oppure, che ne so, Lozano carta base è una carta che viene droppata in quasi tutti i pacchetti è una carta molto comune, c'è in grosse quantità sul mercato e quindi costa, che so, 8-900 crediti e anche spesso rimane lì perché ce ne sono talmente tanti che non essendo neanche una carta meta i compratori non vanno appunto a acquistarla. Entrando un po' più nel dettaglio di quelle che sono le domande che spesso e volentieri mi fate e ci fate in live queste sono quando andare a comprare una carta, quando venderla quando addirittura fare la rivoluzione, vendere la squadra e ricomprarla Io credo che il comportamento da seguire sia il seguente soprattutto durante questo periodo di promozioni come può essere Tots, Foot Birthday, Headliner, eccetera, eccetera, eccetera il comportamento da seguire sia se trovo una delle carte della promozione di non andarla a vendere immediatamente ma aspettare che questa esca dai pacchetti esempio, è normale, no? essendo delle promo limitate queste carte sono delle edizioni speciali le quali durante il tempo che sono nei pacchetti è più facile trovare ovviamente ma quando queste escono dai pacchetti può succedere che magari una di queste carte si rivela particolarmente meta, particolarmente efficace e dunque il suo prezzo può lievitare perché chi ce l'ha magari si inizia a tenerla e chi la vende appunto diminuisce e il prezzo lievita caso che vi porto in esempio è quello di Mbappet Toti dell'anno scorso che uscito costava X e una volta poi che terminò la promo dei Toti e non era più possibile trovarlo nei pacchetti e si dimostrò una carta totalmente rotta andò a costrare 4 volte tanto quel Mbappet Toti addirittura mantiene il prezzo fino a giugno-luio una roba veramente indecente quindi diciamo che per quanto riguarda il consiglio su come gestire le carte trovate durante queste promo generico è questo per quanto riguarda invece il quando acquistare credo che sia lampante come la fascia di prezzi più bassa la andiamo a trovare da domenica notte alle 2 quando vengono rilasciati i premi delle Squad Battles fino a giovedì mattina quando abbiamo i premi della Weekend League quindi come fascia di acquisto io consiglio sempre questa mentre come fascia di vendita dal giovedì sera alla domenica sera perché quando si avvicina la Weekend League e durante la Weekend League le carte costano vanno a costare di più perché appunto c'è questa competizione c'è questa competizione in atto un altro elemento molto importante che voglio andare a considerare è il fatto che secondo me sia un errore andare a fare il ragionamento ossia cavolo venerdì escono i Tots allora vendo tutta la mia squadra e la vado a ricomprare poi ad un prezzo più basso perché non è detto che i prezzi si abbassino anzi si può verificare anche il caso opposto che i prezzi si alzino e poi il ragionamento che secondo me va fatto è che se io vendo una carta perché ha un prezzo alto verosimilmente la vado a comprare anche quella a cui sono interessato ha lo stesso prezzo alto quindi il rapporto è di 1 a 1 stessa cosa si verifica quando vendo a un prezzo più basso compro anche a un prezzo più basso ma il rapporto non è cambiato è sempre lo stesso il caso contrario avviene quando noi abbiamo addirittura la forza e la pazienza di poter andare a vendere una carta ad un prezzo più alto e poi andare ad aspettare effettivamente quello che è il momento X per poterla ricomprare ad un prezzo più basso ma è una cosa che spesso non ci possiamo permettere perché stare dietro al mercato non è mai una cosa semplice un altro tema fondamentale è il tema relativo alla svalutazione delle carte raga perché inevitabilmente siamo destinati a perdere crediti tutti anche il più bravo dei trader perché se tu vai a comprare ad esempio un cantetto odio a gennaio a 2 milioni è normale che poi questa carta avrà dei competitor con l'andare avanti del gioco no? i tozzi eccetera quindi magari a maggio questa carta costa un milione e mezzo ma io sono più che contento se quel cantetto è sceso di prezzo perché poco me ne importa anche quella è una carta definitiva me la tengo in squadra la uso e non mi ci faccio problemi se ci ho perso 500 crediti tanto sono crediti di valuta virtuale con i quali non mi ci devo pagare l'affitto e manco mi ci faccio il sangue amaro vi ripeto perché tanto è una carta che sta là nessuno la smuove uno dei centrocampisti più forti del gioco è bella quindi io credo che l'approccio al mercato deve essere questo deve essere un approccio intelligente e deve essere un approccio consapevole del fatto che il mercato dipende da noi dipende da quello del comportamento delle altre persone non c'è un orario nel quale il mercato si alza non c'è un orario nel quale il mercato si abbassa e nessuno può prevederlo può alzarsi o abbassarsi da un minuto all'altro come mai accadere e nulla nel mio piccolo spero che sto video possa avervi dato delle linee guida per poter affrontare questo periodo nella maniera più tranquilla possibile e nulla ragazzi vi ringrazio per la visione ci vediamo ogni giorno in live dalle 12 alle 16 su youtube su twitch e raga un salutone and peace e quindi vi ringrazio per la visione